La scuola di amici 2018 quest'anno prevede dei cambiamenti. Condotto da Maria De Filippi, il talent show, renderà più difficile la conquista del banco. I ragazzi, che hanno superato gli step e sono adesso ammessi alla scuola sono 19-12 cantanti e 7 ballerini. I banchi disponibili sono 12 e ogni pomeridiano, che andrà in onda il sabato, vedrà i candidati esibirsi e sfidarsi per ottenere il posto da allievi ufficiali. Saranno i professori Alessandra Celentano, Veronica Pepperini, Timor Stephens per il ballo, Alex Britti, Stesh, Rudy Zerbi per il canto, a giudicare attraverso un volo. L'allievo con il voto più alto otterrà il banco. Tra i ragazzi ammessi che hanno superato gli step e contendono il banco di amici, c'è Giussi Romaldi. Conosciamola meglio.Giussi Romaldi chi è la ballerina ad amicinata a San Severino, città in provincia di Macerata, Giussi Romaldi ha da sempre inseguito il suo sogno di diventare ballerina. Sin dal primo step, grazie al suo talento, ha colpito gli insegnanti, che l'hanno portata avanti fino alla competizione per ottenere il banco. Punto la ragazza ha vissuto la tragedia del terremoto del 2016 che ha colpito le marche e l'ha segnata profondamente, ma non l'ha mai fermata. Confessa infatti di essere riuscita a ballare nonostante il tragico evento, senza un tetto e sotto la neve. Punto le sue performance hanno portato i professori a credere in lei, che nonostante i soli 17 anni, dimostra di avere grandi dodi. Dice, inoltre, di non avere grande memoria perde sempre il telefono, o va alla ricerca di una felpa che possibilmente non aveva neanche messo, pensando di averla smarrita. Ma le coreografie le ricorda tutte. La sua voglia di andare avanti, di farsi conoscere e sfondare nel mondo della danza, fanno di Giussi Romaldi la persona decisa e testarda quale punto detesta l'ipocrisia e non sopporta i ballerini che dicono che danzano per se stessi. Giussi Romaldi certo si balla per se stessi ma soprattutto per un pubblico che ti applaude. Giussi Romaldi quando balla si sente o, ennesimo cielo, come lei stessa dichiara appunto molto attiva sui social, Giussi Romaldi posta foto che la ritraggono insieme al suo ragazzo si chiama Yuri, e i due sembrano essere molto innamorati. Sul suo profilo Instagram, la giovane ballerina condivide momenti di vita privata, e foto di lei durante le sue performance. Giussi Romaldi